Il prossimo tema, tema molto delicato, valutazione del sistema scolastico, quindi chiamo qui Barbara Azzarà da Torino, grazie. Buongiorno a tutti, è la terza volta che è modulo il tavolo della scolastica didattica, in quanto la prima volta ci siamo trovati a Torino e abbiamo in particolare parlato del tema degli invalsi, come diceva appunto il collega Saccoccio, è un tema che abbiamo anche noi considerato assolutamente da ripudiare completamente. Questa volta invece ci siamo più focalizzati sul tema della buona scuola e sulla direttiva 11 e la circolare ministeriale 47 che è appena uscita. Quindi questo era l'incontro relativo proprio a queste tematiche. Hanno partecipato al tavolo Marina Boscaino, molti colleghi e anche la senatrice Nundo. La buona scuola è solo l'ultimo atto istituzionale che ha come oggetto la distruzione della scuola statale e pubblica. Non si tratta di una novità e neanche di una controtendenza come il governo cerca di far credere, anche attraverso una campagna mediatica senza precedenti. Per noi in particolare la valutazione del sistema scolastico è solo una scusa per arrivare a compiere una trasformazione radicale nel suo complesso che fonda le radici lontano, nella legge Bassanini sull'autonomia, in cui l'istruzione ha di fatto perso il suo ruolo istituzionale per diventare un mero servizio. Tutto questo quindi non è opera di un singolo partito, è una corrente trasversale e un piano condiviso da tutti i governi di destra e di sinistra che si sono succeduti. Colpo dopo colpo hanno tentato di veramente mettere a segno dei colpi nei periodi storici favorevoli, e questo è un periodo storico purtroppo favorevole, ma noi dobbiamo assolutamente cercare di svegliare le coscienze. La scuola secondo me è l'unico luogo nel quale questo possa essere possibile e loro lo sanno, per quello colpiscono la scuola in modo così duro. Infatti la scuola ha la possibilità veramente di lottare e ha fatto paura sempre al potere dominante, perché noi facciamo emergere il senso critico. La valutazione che ci impongono è una valutazione punitiva, calata dall'alto e in particolare ha fatto nascere nel cittadino l'esigenza di valutare la scuola e l'insegnante attraverso una politica di marketing che dura da almeno un ventennio, perché il cittadino non aveva questa esigenza, ma è nata in questo modo. La valutazione per noi è una cosa seria e non può essere messa in mano a persone che con la scuola non hanno nulla a che fare o anzi spesso sono i veri responsabili della condizione nella quale verte la scuola. Noi riteniamo che sia importante invece parlare di autovalutazione, che deve essere compiuta però dall'interno, dal basso, non calata dall'alto. Noi immaginiamo un organo veramente competente dove i membri siano eletti dalla scuola stessa e un organo che prima di valutare cerchi di dare un nuovo rilievo, un maggiore rilievo alla professione docente e che definisca un vero codice deontologico. La scuola infatti non è un'azienda, non si fabbricano dei saperi, deve rimanere il luogo della cooperazione e della crescita dell'individuo all'interno della collettività. L'autovalutazione deve essere intesa come momento di riflessione, atto a un miglioramento del sistema attraverso un lavoro collettivo, tra più istituzioni scolastiche di vari territori. La valutazione, come viene intesa nella direttiva invece ministeriale 11, è volta alla creazione di liste nere e bianche tra istituti, da insegnanti da punire e da premiare con quei pochi soldi che ci sventolano davanti. Tutto questo non sarà utile alla collettività perché avrà come unica conseguenza quello che è già successo negli Stati Uniti, la chiusura di scuole che verranno valutate al di sotto dei criteri standard e quindi chiuse come se fossero dei siti produttivi. La buona scuola è quindi per noi assolutamente da reggettare e anche come è stato ampiamente richiesto da numerosissime delibere dei collegi docenti. È doveroso per noi porre una vera inversione, non un'inversione solamente intesa in senso di marketing come quello che avviene nella buona scuola, che di fatto si deve contrapporre in modo netto a queste politiche liberiste che mortificano il sistema di istruzione. Grazie Barbara.